La centralina dell'ex gasometro in corso Mazzini nel cuore del quartiere Libertà sta rilevando livelli preoccupanti di PM10, le polveri sottili dannose per le vie respiratorie. Il tutto sembra in coincidenza con l'apertura del cantiere di via Nazareans avvenuta lo scorso mese di settembre. I lavori per la realizzazione del ponte che collegherà via Tatarella con via Nazareans al di là dei pesanti disagi provocati alla circolazione hanno portato ad una sostanziale modifica della viabilità. In seguito alla chiusura di alcuni tratti di strada e al fine di evitare la concentrazione di auto in via Brigata Regina il Comune ha disposto il doppio senso di marcia in via Crispi una soluzione che non ha portato enormi vantaggi poiché la zona durante le ore di punta viene letteralmente soffocata dalle auto al punto tale che alcuni vigili durante il servizio hanno fatto ricorso all'uso delle mascherine. La centralina dell'ARPA ha rilevato nel periodo settembre-dicembre il superamento dei valori massimi consentiti di polveri sottili per ben 12 volte. Altri 10 superamenti si sono registrati nel periodo gennaio-febbraio con punte fino a 82 microgrammi per metro cubo. Fino a settembre lo sforamento dei valori massimi, pari a 50 microgrammi, si era verificato solo in tre occasioni. La ripartizione ambiente del Comune di Bari ha quindi deciso di effettuare una serie di approfondimenti per capire cosa sta accadendo in corso Mazzini, se cioè il superamento dei valori è legato alla presenza dei cantieri in via Nazareans o al cantiere di bonifica dell'ex gasometro.